ragazze e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale anche oggi nuovo video oggi ci andiamo a fare un bel video no no ragazzi questo non è un video score questo intanto qualche inserto che ho trovato che mi devo andare ancora a mettere in ordine perché ragazzi oggi piccola pausa da score perché ci andiamo ad aprire una cosa che mi è arrivata ovviamente già l'avrete vista magari dalla copertina l'aspettavo da un po e non vedevo l'ora che arrivasse quindi dai ragazzi senza perderci in tante chiacchiere tanto l'avete visto dalla copertina eccola qui la custodia ragazzi abbiamo di fronte innanzitutto arrivato incartato benissimo fantastico e dicevamo ragazzi eccola qui questa è la scatola che contiene la prima collezione in assoluto ragazzi dell'album calciatrici sono contentissimo di portarlo in questa stagione perché come sapete se non sapete male ragazzi perché andrebbe seguito un pochino di più la roma ha vinto lo scudetto dopo cinque anni che lo vinceva la juventus a livello femminile la roma ha interrotto il dominio della juventus si ragazzi per 30 secondi ho pensato di lasciarlo sigillato ma no ragazzi non ce la faccio lo voglio aprire insieme a voi tanto questo alla fine è una di quelle cose che mi terrò quindi perché tenerla sigillata solitamente si tengono sigillate le cose del quale vogliamo che non perdano valore per magari poi una futura rivendita ma in questo caso ragazzi me lo tengo in collezione è un pezzo secondo me comunque storico essendo la prima collezione ripeto in assoluto dell'album delle calciatrici l'andiamo ad aprire ragazzi eccola qui questa è sembra una di quelle scatoline che metteva prima la panini ogni tanto le mette ancora su grandi ordini che erano veramente stupende sembra una di quelle ma giganti che poi è una di queste qui praticamente e allora ragazzi andiamo ad aprire insieme che bel momento che bel momento storico ragazzi eccolo qui o bello ragazzi bello 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 primo album eccolo qui calciatrici digital collection perché ovviamente la collezione purtroppo per il momento era solo in digitale quindi non si trovava in edicola però una volta completata la versione digitale si poteva richiedere la copia cartacea come vi ho detto anche più volte su instagram quindi questo è l'album non male va bene come la versione digitale pagine anche plastificate quindi ottimo ottimo materiale come se fosse un cartonato per quanto riguarda le pagine andiamo ovviamente alla roma che ha vinto il suo primo scudetto qui sotto ovviamente ragazzi le figurine e anche in questo caso ragazzi ce le andiamo a vedere tutte magari non so se le incollerò già adesso non so se lo farò in assoluto però intanto le voglio andare a vedere insieme a voi quindi ragazzi partiamo dagli stemmi e partiamo dallo stemma del como con in alto a destra la scritta panini poi abbiamo ovviamente la fiorentina l'intero insomma anche gli scudetti ero curioso di vederli anche dal vivo la qualità delle figurine che è praticamente come quella dei calciatori né di più né di meno però devo dire che mi ha stupito molto l'album perché ovviamente sarà come quelli della serie c che però io ancora non avevo non avevo mai preso lo stemma ovviamente della roma campione d'italia la samp e il sassuolo ci andiamo a vedere anche le figurine dicevo la qualità delle figurine è come quella dei calciatori forse ma sapete che forse anche un filino di più forse anche un filino di più ma comunque più o meno siamo lì ero curioso ovviamente di vedere anche dicevamo la qualità delle figurine ma anche la qualità dell'album perché secondo me la qualità dell'album ci sta un sacco anche le pagine plastificate sinceramente non me l'aspettavo qui abbiamo tutta la squadra del com ovviamente ora ce le passiamo un anche un pochino velocemente perché vi voglio far vedere tutta tutta la collezione ovviamente fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate sempre di questa collezione se vi piacerebbe trovarla in edicola perché a me farebbe veramente veramente piacere addirittura tre portieri e poi abbiamo a guard caffierata herzen ovviamente ragazzi il calcio femminile in questi anni sta crescendo veramente tanto lo sappiamo finalmente diventate professioniste anche loro e questo comporta a cascata una serie di conseguenze veramente veramente importanti per tutto il movimento poi stiamo vedendo anche che le televisioni stanno seguendo anche molto più da vicino tutta la situazione intanto qui l'inter ovviamente cambia qualcosina rispetto alle maglie magari qualche piccolo sponsor che può essere leggermente diverso andiamo a vedere ora la roma che è la vincitrice di quest'anno abbiamo claudia ciccotti cinotti ferrara giuliano greggi che mi piace tantissimo ragazzi ha una grinta pazzesca in campo giacinti il grande bomber che veniva dal milan gliona e poi abbiamo avi avi e poi aug lazzaro certurini e poi però non non dovrebbero essere finiti qui perché a memoria mi manca qualcuno tra cui il capitano e andressa ragazzi soprattutto quindi tanto qui vediamo la samp con prugna re ragazzoli rincon taleb mi dispiace averle un po così nella collezione già completa perché vi dicevo mi piacerebbe trovarle anche in eticola magari promuovendo anche aiutando a promuovere il movimento del calcio femminile magari anche con pacchetti che costano anche di meno perché no questo era il secondo lotto di figurine ci andiamo a vedere il terzo forse sono qui le altre della roma magari dopo il parma vediamo parma che intanto a livello femminile comunque è in serie a enrico farre li silvioni qualcuna ragazzi la nominiamo pure ma andiamo anche un pochino veloci perché vi voglio far vedere tutta la collezione comunque sono un bel po di figurine ora le andiamo a ricontare magari alla fine vediamo da quanto era fatta la collezione perché comunque non me lo ricordo comunque bello finalmente primo album femminile eccole qui le altre giocatrici le altre calciatrici della roma e abbiamo ceasar abbiamo l'ind abbiamo il terzo portiere eccola qui elisa bartoli il capitano della squadra campione d'italia poi abbiamo la di guglielmo colmaz lanstrom linari altro grande difensore minami il terzino venninger eccola qui andressa andressa ragazzi se non avete mai visto una partita di calcio femminile magari siete capitati su questo video per curiosità perché siete collezionisti e volevate vedere la collezione io vi invito a farlo ovviamente ragazzi il livello che vi dovete aspettare non è ovviamente ai livelli di quello maschile però secondo me sta crescendo tanto è interessante ci andiamo a vedere anche qui le calciatrici della juve abbiamo bottino abbiamo saragama anche della nostra nazionale quest'estate ci sarà anche il mondiale se non sbaglio quindi è anche un modo quello magari se volete affacciarvi intanto sul calcio femminile se siete curiosi di vedere qualcosa magari lo potete fare anche attraverso la nazionale barbara bonansea bonfantini e poi abbiamo cantore abbiamo girelli uno dei giocatori una delle calciatrici più forti passiamo poi al milan anche in questo caso sempre tre portieri bella questa cosa che hanno messo tre portieri ovviamente la serie a ragazzi è fatta da meno squadre quindi ci si può anche dedicare a mettere una rosa più completa e finiamo con l'insley thomas del milan ma che dire ragazzi io ci tenevo veramente a portarvi questo contenuto diciamo che mi sono dedicato quest'anno particolarmente a quello delle calciatrici perché se mi avete seguito su instagram comunque cercavo anche i codici ho acquistato anche solo codici a parte per questa collezione e principalmente per una cosa personale perché sono contento che il movimento sta crescendo quest'anno ho seguito devo dire più rispetto agli ultimi anni un interesse che mi è cresciuto anche grazie ai diritti televisivi che hanno facilitato ovviamente la visione ho seguito la roma proprio in quest'anno che poi ha vinto il campionato e sono stato quindi ovviamente doppiamente doppiamente felice che dire ragazzi io l'ho aperto sì perché perché ve l'ho detto ci tengo comunque a tenerlo non mi interessa una futura rivendita ma io ve la butto lì ragazzi perché comunque questo è il primo album delle calciatrici nella stagione eccolo qui 2022 2023 speriamo che anche in come in spagna esca in edicola perché vi ricordo che per quanto riguarda la versione spagnola del calcio femminile quest'anno per la prima volta è uscito proprio in edicola magari se siete interessati possiamo cercare anche di recuperare il materiale spagnolo e di portarlo qui sul canale detto questo ragazzi per me questo comunque rimane un video storico perché ragazzi questo è il primo album e speriamo che questo sia solo l'inizio e che non sia un fuoco di paglia magari il prossimo anno per che no se la panini ha visto che c'era interesse perché ogni volta che aprivamo un pacchetto di calciatori maschili c'era un codice quel codice poteva essere usato o per la serie c nei tre gironi o per il calcio femminile magari la panini si ha visto che c'era tanto interesse nel riscattare i codici per il calcio femminile perché no magari un pensierino su una collezione a se stante in edicola ce lo potrebbe fare non lo so ragazzi io non ho questo tipo di contatti la butto lì è un mio è un mio pensiero però perché no secondo me ci potrebbe anche stare come come ragionamento detto questo ragazzi e ragazze a me non resta che ringraziarvi come sempre io vi ricordo tre video a settimana lunedì mercoledì e venerdì i prossimi video ragazzi torneremo a parlare di score torneremo ad aprirci il materiale che ci ha inviato la panini abbiamo tutto il fat pack ancora da aprire non vedo l'ora di trovarci qualcosa di interessante speriamo magari un autografo proprio mentre stiamo registrando qui insieme a voi detto questo a me non resta che augurarvi una buona giornata